Serata di apertura di campagna elettorale, quella di Andrea, ieri per il Partito Democratico, riunitosi attorno ai candidati del territorio e dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. L'evento prima delle notizie giunte, poi nella mattinata di oggi, sull'indagine della Procura di Bari, che ha consigliato le dimissioni all'ormai ex Assessore all'Ambiente, Filippo Carazzolo, ma durante la serata vi è stata occasione più volte di ricordare come il voto al Partito Democratico sia l'unico che arriva ad una vera formazione politica della nazione. Lo stesso Emiliano ha chiuso il suo intervento con una battuta, meglio le nostre eliti che gli algoritmi ideati dal Movimento 5 Stelle. La discussione politica è anche dura, feroce, sul merito delle cose, senza personalizzazione. Se la Puglia, dentro il Partito Democratico, ha un programma che è contro l'utilizzo del carbone all'Ilva o è contro la localizzazione su una spiaggia di un gasdotto, questo non cambia la democrazia del Partito e il ruolo che il Partito Democratico deve avere nel Paese. È l'unico partito nel quale non esiste una centrale che pensa per tutti. Questo ovviamente dovrebbe far riflettere, dovrebbe spiegare ai cittadini italiani che consegnarsi alla destra o al Movimento 5 Stelle, significa in moltissimi casi eliminare il ragionamento politico nelle decisioni e significa perdere ruolo, spazio, significa che i cittadini contano di meno. Io mi batto da sempre a tutela del territorio, della Puglia, questo è il mio lavoro e quindi invito tutti a votare per il Partito Democratico, anche se qualcuno ha in antipatia il suo segretario, perché comunque il Partito Democratico consente anche a chi, come me, non è d'accordo col segretario di continuare a fare politica. Quindi è questo anche il luogo dove si possono correggere gli errori che il PD qualche volta realizza. Nella sala a Timonelli hanno sfilato la candidata capolista al Senato a Suntela Messina, lo stesso candidato alla Camera dei Deputati, Filippo Caracciolo, oltre che la candidata andriese nell'estino del proporzionale alla Camera dei Deputati, Nada Tarsitano. Per tutti i loro parole di sprono per l'avvio di una campagna elettorale molto complicata, soprattutto in Puglia, ma anche più in generale in tutta l'Italia, ed una campagna elettorale nella quale, oltre ai possibili guai giudiziari, non potrà che finirci anche il nuovo ospedale di Londra, che il presidente della regione Puglia stigmatizza nuovamente. I nostri avversari non hanno altro argomento che mettere in discussione la questione dell'ospedale, ma il 15 febbraio c'è la conferenza di servizi che localizzerà definitivamente l'opera e cominceremo l'opera di progettazione e l'ospedale verrà realizzato. L'ho detto tante volte, mi sto sgolando nel dirlo, però è il mio compito ribadirlo sempre con pacatezza, serenità e gentilezza anche verso chi evidentemente utilizza questo argomento non avendo proprio nient'altro da dire.